La destra e azione nazionale insieme per dare vita ad un nuovo soggetto politico per il popolo sovranista. Lo hanno presentato alla mezzia terme i leader dei due partiti, Francesco Storace e Gianni Alemanno, che in vista del congresso nazionale del 18 e 19 febbraio a Roma hanno voluto far sentire la loro presenza in Calabria. È la prima volta che a destra non si procede per scissione ma per aggregazione. Ci sono due soggetti politici che si mettono insieme. L'obiettivo finale è quello di dare vita a una grande aggregazione sovranista che consente agli italiani di prendersi le chiavi di casa. E lo dico soprattutto in terre come questa, dove c'è bisogno di una classe dirigente coraggiosa, combattente, che voglia evitare questo stato di abbandono e di rassegnazione che sembra aver preso l'Italia e il Mezzogiorno. Qua tutti si separano, ci sono scissioni, divisioni, noi invece siamo due partiti che si uniscono, che trovano un intento comune per costruire la casa comune di tutti coloro che sono a destra e per costruire quello che noi chiamiamo il polo sovranista, cioè il polo delle persone che credono la sovranità popolare e nazionale. Pensiamo che la destra deve essere unita. Noi in Calabria vogliamo far parlare la gente, noi puntiamo sulle primarie, quindi non andiamo con nomi preconfezionati, vogliamo che sia la gente con le primarie a scegliere i propri candidati a tutti i livelli e anche dal punto di vista del leader del nostro partito, in Calabria, sarà scelto dopo il congresso 18-19 con una grande consultazione popolare.